Ciao ragazzi, oggi siamo in compagnia, sono in compagnia di una mia carissima amica e anche la mia personale allenatrice Alessia Schiamone, insegnante di Pirates. Buongiorno a tutti. E mi sperimenterò in un po' di cose da fare proprio come allenamento nel Pilates. In particolare inizieremo con la Cadillac e poi Ale, spiegaci un pochino che cosa mi farai fare. Allora, andremo a eseguire un'ultima esercizi in cui ci sarà tutta la schiena in completo scarico e andremo a rafforzare sia la parte della schiena che di solito serve a evitare i dolori, quindi tutti i paravertebrali, sia i dorsali. È un esercizio completo dove utilizzeremo lemicilindro per mettere in scarico la zona lombare e andremo a mobilizzare tutta la schiena e andremo con l'aiuto della barra a rafforzare sia i tricipiti che i dorsali senza per questo andare con la schiena troppo carica. È un esercizio che possono fare tutte le persone a tutte le età e la differenza nell'esercizio la fanno le molle. Ovviamente su una persona allenata come Michela useremo delle resistenze un po' più alte. Lo stesso esercizio con una resistenza blanda può farlo anche il signor o la signora over 60 che hanno bisogno di anche mobilizzare un po' le articolazioni, perché comunque con l'età sono un po' le articolazioni che hanno bisogno di essere tra virgolette oliate, tipo macchinetta. È una routine che prevede prima la parte della schiena che si mobilizza, poi solo le braccia che iniziano la tonificazione e poi l'unione dei due esercizi. Pronti? Via! Adesso facciamo insieme la routine di esercizi di Pilates. Ok, andrei. Grazie per lì. 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 Grazie per lì.